stanno facendo una pugia alla casa del cobra quella è una tana del cobra e allora per propiziarselo nel senso che si spera che non vengano mai assaliti dai cobra gli fanno una buccia sai raam sorry è beautifullo sai raam bagunava come c'è un bambino? come c'è un cobra?